Come vi avevo accennato tempo fa, ho deciso che è giunto il momento di parlarvi in maniera approfondita di Anne Rice, che sapete essere la mia autrice preferita in assoluto, e di cui parlo praticamente sempre. Con la vostra approvazione però non lo farò recensendo ogni suo singolo libro nel dettaglio, cosa che ho già fatto agli albori del canale, ma soffermandomi di volta in volta sui vari personaggi delle cronache dei vampiri, certamente la sua serie più famosa. Ma prima parliamo un attimo di lei. Chi è Anne Rice? È una scrittrice americana nata a New Orleans nel 1941. New Orleans è una città importantissima per la donna e le sue opere, ma ne parleremo tra poco. Ed è uno degli autori di maggior successo della storia moderna. La Rice è nota soprattutto per i suoi romanzi gotici horror. Metto questi generi tra virgolette perché i suoi romanzi non sono solo gotici horror, ma filosofici, storici. Insomma, trovo decisamente riduttivo e poco esplicativo castigarli dietro una sola etichetta. Oltre alle cronache dei vampiri, ha scritto la monumentale trilogia delle streghe Mayfer, una serie sugli angeli e una sui licantropi, la mugna e altri romanzi autoconclusivi con elementi sovrannaturali oppure semplicemente storici. Ha scritto persino una specie di lolita moderna dei romanzi su Cristo e una trilogia erotica davvero fuori dal comune. Sì, ha scritto sia roba erotica pesante sia libri su Cristo. Ah, come si fa a non adorarla! La donna passa gran parte della sua vita a New Orleans, città dall'atmosfera affascinante e magica nella quale sono ambientati molti dei suoi romanzi. Ciò fa capire quanto quei luoghi siano importanti per lei. Nel 1961 si sposa con il poeta Stan Rice, morto prematuramente a causa del cancro e al quale dobbiamo la creazione del più celebre tra i personaggi dell'autrice, cioè il vampiro Lestat. Pare infatti che questo personaggio sia stato ispirato proprio dal suo biondo marito. Le tragedie sembrano non voler abbandonare questa donna, che oltre al marito perde a causa della leucemia anche la figlioletta Michelle di soli cinque anni. Impossibile non associare a questa tragedia la creazione di uno dei vampiri più famosi e tragici dell'autrice, la piccola Claudia, uccisa e trasformata in vampiro alla stessa età di Michelle e perciò destinata ad avere per sempre un corpo da bambina. Quando ci penso mi vengono i brividi. Ha un altro figlio, ora adulto, con cui addirittura scrive e con il quale sta seguendo la creazione di una serie tv dedicata alle croniche dei vampiri. Mamma mia, quanto sono eccitata per questo! La Rice ha attraversato diverse fasi nella sua vita, dall'essere profondamente cattolica alla perdita della fede, fino a ritenersi credente ma non seguace della chiesa, anche perché è risaputo quanto sia una sostenitrice dei diritti delle minoranze, cioè i suoi vampiri sono quasi tutti bisessuali, e di molte altre cose che la chiesa condanna. Per quanto riguarda la letteratura ha ottenuto il successo grazie a intervista col vampiro nel 1976, con il quale ha ricreato il mito notturno del vampiro, proseguendo dove Stoker si era fermato. Se i vampiri del passato e delle leggende erano creature mostruose, crudeli e senza sentimenti, vedi Dracula, quelli del Rice sono oscuramente luminosi, capaci di incarnare e raccontare i mali e le angosce della contemporaneità. Sono esseri divisi tra i più bassi istinti bestiali e i più alti stimoli intellettuali, creature che non possono fare a meno di uccidere per la loro stessa natura, ma dall'animo umano, e questo contrasto li rende profondamente tormentati e molto affascinanti. A dare maggiore valore a tutto questo interviene la penna magistrale dell'autrice, capace di risucchiare il lettore all'interno delle situazioni e delle immagini da lei evocate. Uno stile elegante, denso e profondo, sensuale e celestiale allo stesso tempo, su cui soffermarsi durante la lettura, per riflettere o solo godersi le parole, che dà vita a frasi che vanno tenute sulla lingua, assaporate. Da intervista col vampiro è stato tratto l'omonimo film con l'intensissimo e magistrale Don Cruz nei panni di Lestat, il bravissimo Brad Pitt in quelli di lui e la sorprendente Kirsten Dunst nel ruolo di Claudia. Il film è splendido, un capolavoro, ed è riuscito in qualche modo a cogliere le atmosfere della Rice. C'è anche un altro film tratto da una delle opere dell'autrice, La Regina dei Dannati, tratto dall'omonimo romanzo, ma è una sorta di flop che ha snaturato i personaggi e cambiato di molto la storia originale. Le canzoni sono belle e Stuart Townsend ha fatto emergere il lato più sensuale di Lestat, ma sicuramente è un film per nulla all'altezza del libro. Ci sarebbe molto altro da dire su questa donna fantastica, ma il resto di lei ve lo dirò analizzando i suoi vampiri, altrimenti non ne usciamo più. Quindi, cominciamo. Iniziamo con lui, protagonista di Intervista col vampiro, perché non è necessario leggere tutti i libri delle cronache per parlarvene, in quanto, anche se compare un po' in tutti i volumi, viene approfondito realmente bene solo nel primo. Diciamo che Intervista col vampiro è il libro di lui. Siccome sto facendo un'ennesima ridettura di questa serie, degli altri personaggi vi parlerò quando sarà il momento. Ma torniamo a lui, lui de Pointe du Lac, un vampiro che decide di rilasciare un'intervista a un giovane a caccia di storie. Così i due si siedono in una stanza, un registratore a cassette acceso, e lui inizia a raccontare. Racconta che era il 1791 quando Lestat, un vampiro, lo trasformò in un suo simile, approfittando dello stato di depressione in cui lui era caduto per via della morte del fratello. Si trovavano a New Orleans, e Lestat aveva bisogno dei possedimenti e del denaro di lui, per questo decise di farne il suo compagno immortale. Lestat però si rivera essere un uomo frivolo e crudele, un maestro negligente per lui, che presto si rende conto di quanto questa sua immortalità sia in realtà una maledizione. Lui non riesce ad essere distaccato dalla vita come dovrebbe, prova molta compassione per le sue vittime. Quindi, nonostante il sangue e l'uccidere siano le sole cose che riescono a dargli pace a causa della sua natura, prova un dolore, un senso di colpa e un'angoscia tali da tormentarlo in maniera indicibile. Questo perché i vampiri della Rise sentono ogni emozione in maniera molto più forte e vivida degli esseri umani. Provano sofferenza come nessun altro essere al mondo proprio perché sono vampiri. Lui è decisamente il vampiro più umano di tutti quelli creati dalla Rise. Ha lunghi capelli neri, bellissimi occhi verdi e quando viene paragonato agli altri bevitori di sangue è sempre descritto come quello che sembra più umano, con gli occhi tristi, quasi timido e incerto in alcuni suoi modi di fare. Ed è anche il vampiro più infelice probabilmente, il più sofferente, il più tormentato dalla propria esistenza. Lui ha sempre ricercato una motivazione per quello che è e non trovandola ne rimane costernato. Inoltre nel suo passato c'è una ferita mai rimarginata, cioè Claudia, la bambina che l'estata ha trasformato per lui in vampiro e poi morta in maniera orribile. Lui amava immensamente Claudia e il rimorso per non essere riuscito a salvarla lo accompagnerà sempre. Caratterialmente parlando è sempre stata una creatura piuttosto passiva, con sporadici scatti di rabbia emotiva qua e là e una certa tendenza ad appiccare incendi. Quindi questo è lui, una creatura sensibile, dall'espressione triste, di una dolcezza strana e piuttosto debole come vampiro rispetto a tutti gli altri, con dei modi da gentiluomo ma che non si cura molto del proprio abbigliamento. Nonostante gli attriti e le incomprensioni, è uno di quelli che l'estat, protagonista indiscusso delle cronache e suo creatore, ama di più. Spero che questo primo video su Anne Rice e sull'approfondimento dei suoi personaggi vi sia piaciuto. Non so se sono riuscita a rendere giustizia a questo personaggio magnifico e super interessante, ma sarete voi a dirmelo. E fatemi anche sapere se vi piace la modalità con cui ho deciso di portare avanti questa serie, quindi senza mostrarmi, ma mostrandovi in realtà immagini, copertine e cose del genere con magari un sottofondo musicale. Fatemi sapere se vi piace o se preferite che mostri la mia faccia. Fatemi sapere se siete fan di Anne Rice, cosa pensate dell'autrice, cosa pensate del video e soprattutto in questo caso cosa ne pensate di lui. Vi mando un grosso braccio, un bacio e ci vediamo al prossimo video.